buongiorno amici l'amico Dino è già pronto aspettiamo gli altri e si parte ragazzi attualmente stiamo percorrendo la minima di Monteforte siamo quasi su alla minima un piccolo scaldinamento ragazzi questo è il casone quasi gela un po' di più Sì, c'è più sanno. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti